ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere questo nuovo film in super 8 test 2 un film di stanlio e olio stan laurel e oliver aldi i grandi classici cine hollywood fantastico cofanetto vent'anni dopo block hands usa stan laurel e oliver aldi in teste dure stallio e olio andiamo a vedere le pellicole eccola qua questa è la prima fantastica cofanetto che si chiude in questo modo e poi c'è la seconda e niente ragazzi mettetevi piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti